Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Giro di scommesse illegali da circa 5 miliardi di euro. Un giro d'affari è un sistema che ha portato ad un'indagine complessa, portata avanti dall'antimafia, che ha fatto scattare le manette a ben 33 persone in tutta Italia, tra cui per l'appunto anche un residente del sud pontino di Formia, di cui però non sono state rese note le generalità. Secondo gli inquirenti, il giro d'affari in piedi da circa due anni era retto da una presunta organizzazione criminale che operava in buona parte d'Italia e aveva anche delle ramificazioni all'estero, e nello specifico nel territorio di Panama, in Romania e a Malta. Titolare di un bar, Assessa Orunca senza Green Pass, la polizia arriva e gli chiude per tre giorni l'attività commerciale, ma lui la apre ugualmente in barba alla sanzione. Dopo aver appurato il non rispetto proprio della sanzione, la polizia è nuovamente intervenuta sul posto per notificare la denuncia al proprietario del bar e intimare l'immediata chiusura dell'attività. A fondi da inizio anno ha riaperto il drive-in dell'ospedale San Giovanni di Dio per i test anti-covid è notizia delle ultime ore che dopo i primi dieci giorni di rodaggio aumentano i tamponi che vengono somministrati in 24 ore. Per la precisione si passa da 60 a 120. Coloro che hanno effettuato la prenotazione ma vorrebbero anticiparla possono cancellare la prima richiesta utilizzando il link ricevuto in fase di conferma e prenotarne una nuova. La nuova organizzazione entrerà in funzione a partire da domani, giovedì 13 gennaio. Ancora mareggiate lungo le coste e cambiano gli orari dei collegamenti con le isole pontine e nello specifico, proprio a causa di condizioni meteo avverse, non è stata effettuata la corsa unità veloce da Ventotene a Formia delle 6.45 di questa mattina e non verrà effettuata neppure la corsa unità veloce da Formia a Ventotene delle 15.30 di quest'oggi. Castelfort riapre il ponte Maiano sul Garigliano ma a senso unico alternato. Da martedì il ponte è stato riaperto come annunciato dal sindaco di Castelfort Angelo Felice Pompeo che è informato dal dirigente della provincia di Latina ha spiegato come gli operai concludendo la messa in sicurezza e rimuovendo le transenne consentono il traffico automobilistico seppur a senso unico alternato. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del GR Locale.